Maestro buonasera, eccoci qua un'altra volta, ecco qua con il prof. Fernando e Neri Parenti, stasera non sei premiato? No, sono premiante. Ah sei premiante? Ah, fai parte della giuria allora? No, 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 proprio premiante e basta. La giuria è la bella falsità, altra. Premiante e basta. Solo premiante. Tornando al discorso di Fantosi, tornato all'altro giorno, ma perché noi facciamo un altro quanto c'è il figlio magari con... Eh no. No, non è possibile. Non è possibile. Allora va bene, grazie per le mini interviste e ci vediamo alla prossima. Va bene, grazie. Ciao.